Dovrebbe partire Oggi sono da solo, l'idea era di farmi un giretto, un po' a caso E' anche più tardi del solito rispetto alle ultime volte che siamo andati nei campi che erano le due Infatti ci sta un po' meglio Visto che ho passato praticamente tutta la giornata a editare un video quindi ho anche voglia di muovermi un po' Non penso di stare in giro troppo Oggi non ho la seconda GoPro davanti Però vabbè dai, non so neanche se uscirà mai un video E' solo che voglio farmi un giretto Questo è proprio a tirargli il freno perché non frena più ormai Ma che non ho attrezzi dietro Niente, non possiamo farci niente per oggi Devo ricordarmi Buono Devo ricordarmi quando sono a casa di tirarlo Anche se non mi ricorderò mai Ma devo riuscire a farcela Molto bene Molto bene Stavo guardando dove mi perdeva olio E' buono Ogni tanto a caso lui quando è caldo non parte Comunque sono contento che Per me questa domenica è uscito il video Quello dove andavo nei camp Con lo zip no? Con il mio amico che aveva la GoPro in testa E quella qua davanti E in un giorno e 7 ore ha fatto 5000 views Quindi non male direi Dai Che vuoi star fermi al caldo? Bellissimo no? Poi spero di riuscire a farcela con la benzina Che non ho fatto benzina Quindi ho ancora quella avanzata da quel giro lì Quindi non lo so Adesso con calmo poi riparte Si tratta solo di aspettare E niente oggi non vuole andare No perché non parte? E questa? Salve Non ho soldi da spendere Ho comprato colpa Proviamone uno in ginocchio Buono Madonna sono entrate strali traverso Allora si parte Facciamo la telecronica Curva a sinistra Tu bisogna girare intorno all'ombra Poi giù in carena Tra queste due Ma prima di quella lì in fondo E via Proviamo a prendere i tempi Per la telecronica E' la telecronica E' la telecronica E' la telecronica questo è buono me lo sento dai ultimi due giri per facciare riposare anche lo zip vai penultimo un po largo è l'ultimo larghissimo quando è per oggi basta che devo anche avere la benzina per tornare a casa non so neanche se sarà mai venuto un video comunque era solo per svagarmi un po' perché stavo editando tutto il giorno praticamente un po' Grazie a tutti.